Ciao a tutti e benvenuti al nostro canale, Terra Amara, anticipazioni del sabato 27 maggio. Finalmente vedremo la brutta reazione di Demir al video inviato dalla perfida Mujgan. Fekeli è con Beice e parlano delle incomprensioni tra Mujgan e Yilmaz. Lui le dice che ha notato che la pazienza di Yilmaz è finita e racconta di aver parlato con Yilmaz, chiedendogli di avere pazienza per risolvere le cose. Yilmaz ha ascoltato, mentre Mujgan non ascolta nessuno. Fekeli chiede a Beice di parlare con lei e farla ragionare. Beice dice che Mujgan ama molto Yilmaz ed è molto gelosa, ma parlerà con lei e capirà. Fekeli risponde che dovrebbe capirlo prima che sia troppo tardi e lo perda. Quella notte, mentre Demir dorme abbracciando Zuleyaz, Yilmaz non riesce a dormire e pensa al tempo in cui lui e Zuleyaz erano fidanzati e felici, progettando il loro matrimonio. Mujgan invece pensa al suo matrimonio e Fekeli ripensa a Unkar e a ciò che ha fatto a Zuleyaz e Yilmaz. Anche Unkar sta pensando allo stesso momento. Il giorno successivo, Yilmaz e Demir si incontrano davanti alla fabbrica di Ulusi, che li sta aspettando. Entrambi dicono di non essere felici di collaborare tra di loro, ma lo fanno per il bene di Kukurova. Durante l'incontro, Demir e Yilmaz riescono a far ammettere a Ulusi che ci sono due persone straniere che offrono molti soldi e sono state mandate da Atip. Ulusi aggiunge che non gli sono piaciute, ma ha venduto l'attività perché ha bisogno di soldi e loro offrono il 10% in più rispetto a Demir. Yilmaz gli dice che loro offrono il 20% e Ulusi risponde che ci penserà. Yilmaz lo mette in guardia dicendo che l'offerta è valida solo in quel momento e che se non firma subito l'accordo, ritireranno la proposta. Nel frattempo, Sanye si reca nell'ufficio di Atip che la accoglie con la solita ironia. Sanye gli dice di essere a conoscenza del debito del marito e della sua vera origine e si impegna a pagarlo lei. Atip le chiede perché si carichi della stupidità di Gaffur e lei risponde che Gaffur è suo marito davanti a Dio. Atip osserva che Gaffur è un uomo molto fortunato, ma Sanye lo avverte di stare lontano da loro. Mentre Sanye se ne va, Atip riceve una telefonata da Errol, uno dei due uomini che vogliono comprare la fabbrica di Ulusi. Ulusi, nel suo ufficio, ha firmato l'atto di vendita a Demir e Yilmaz e dice di essere felice di aver concluso un affare con due grandi famiglie come le loro. Nel frattempo, Fekeli, mentre è dal barbiere, viene a sapere che le due persone che volevano comprare la fabbrica di Ulusi stanno cercando di acquistare altre fabbriche e terreni offrendo un prezzo molto alto. Errol e il suo socio si trovano in un luogo isolato con Atip e lo accusano di aver rovinato l'affare con Ulusi. Gli chiedono perché vogliono proprio quella fabbrica, ma Atip dice che ha affare loro e gli esorta a darsi da fare per concludere l'affare. Demir, Yilmaz e Fekeli sono insieme al circolo e Fekeli gli avverte che queste persone stanno tramando qualcosa e devono fermarli perché vogliono impadronirsi delle terre e delle fabbriche di Cucurova. Entrambi affermano di non avere altri soldi per comprare le attività e Fekeli propone di rivolgersi alla Camera delle Industrie per fare fronte comune contro queste persone. Fekeli, Yilmaz e Demir si presentano insieme alla Camera delle Industrie presieduta da Atip, sorprendendo tutti i soci. Fekeli, dopo aver zittito Atip, spiega che Cucurova è in grave pericolo e devono agire tempestivamente. Spiega che ci sono persone che stanno cercando di appropriarsi di terre e fabbriche. Alcuni soci ammettono di essere stati contattati e di aver ricevuto offerte molto superiori al valore delle loro proprietà. Fekeli li avverte di non vendere nulla. Atip interviene dicendo che ognuno può vendere ciò che vuole. Ma Fekeli replica che c'è qualcosa di losco dietro a queste grandi offerte e che devono scoprirlo insieme. Devono fare fronte comune, non vendere e aiutarsi l'un l'altro in caso di bisogno. Tutti accettano e giurano di rispettare l'accordo. Dopo l'incontro alla Camera delle Industrie, Atip si incontra con Errol e gli riferisce la decisione dei soci di non vendere nulla. Errol gli chiede perché non l'ha impedito come residente. Atip si difende dicendo di averlo fatto, ma di essere stato minacciato perché tutti accettano ciò che dice uno di loro. Errol chiede chi sia quest'uomo e Atip risponde che ha l'Iramet Fekeli. Errol e il suo socio capiscono che è l'uomo del ristorante e che non è sordo. Poi gli chiedono se è ricco o se possono comprarlo con i soldi o spaventarlo. Atip dice loro che è ricco ed è stato 20 anni in carcere per omicidio e non ha paura di nulla. Finché c'è lui, nessuno venderà nulla. Mujgan è nel suo studio in ospedale e telefona all'ufficio di Demir chiedendo alla segretaria se Demir ha ricevuto un pacchetto con un video. La segretaria conferma, ma le dice che non è stato in grado di guardarlo perché il proiettore è rotto e lo guarderanno quando arriverà quello nuovo. Mujgan, contrariata, interrompe la telefonata. Demir è nel suo ufficio con un car e guarda sul giornale le foto sue di Yilmaz. Nota la notizia che Eyup, l'assassino di Cingaver, è stato ucciso in prigione. Demir dice a un car che c'è qualcosa di strano dietro a quell'omicidio e che deve scoprire la verità. Decide di recarsi in procura. Nel frattempo, in procura, Jolide incontra Yilmaz e gli riferisce che non hanno trovato l'assassino di Eyup e che gli interrogatori dei detenuti non hanno portato a nulla. Yilmaz le racconta di aver parlato con Eyup e della proposta che gli aveva fatto, ma non ha avuto il tempo di ricevere una risposta. In quel momento entra Demir, avendo ascoltato la conversazione, dice di essere lì per lo stesso motivo. Jolide trova strano che Eyup sia stato ucciso il giorno in cui aveva deciso di rivelare la verità a Yilmaz. Informa che interrogeranno nuovamente Rashid perché sono state trovate le sue impronte sull'arma del delitto. Chiede loro di lasciarla lavorare senza interferire. Poi si rivolge a Demir dicendogli che il caso di Erkument è stato chiuso, ma lei non crede che le cose siano andate così. Ha chiuso un occhio, ma non farà la stessa cosa in questo caso. Quando lasciano la procura, Demir chiede a Yilmaz come mai Jolide ha insabbiato il caso di Erkument, probabilmente sapendo tutto da Sebattin. Entrambi concordano che devono interferire nelle indagini di Jolide. Durante una riunione del Comitato di Beneficenza, a cui partecipano Unkar, Zuleya e Beice, interviene Mujgan. Si lamenta di essere stata offesa da tutte loro perché non l'hanno mai invitata a partecipare. Zuleya cerca di giustificarsi dicendo che Mujgan è un medico molto impegnato e non volevano infastidirla. Mujgan replica di essere lì per contribuire alla formazione professionale delle ragazze e fa un commento allusivo a Zuleya, affermando che le ragazze che non studiano e rimangono a casa fanno cose stupide. Unkar interviene dicendo che quello che ha detto è giusto, ma che la loro associazione si interessa di lettura e scrittura, organizzando corsi per avviare le ragazze a una professione. Spiega che è normale che Mujgan non lo sappia essendo da poco a Kukurova. Beice aggiunge che, come dice Fekeli, con gentilezza si può diventare cittadini di qualunque posto. Sermin si reca da Suat, l'inquilino della villa che le ha regalato Unkar e lo accusa di non pagare l'affitto. Suat le dice di avere dei problemi economici, ma lei lo intima di pagare entro due giorni o di andarsene. Suat risponde di fargli causa perché non pagherà e non se ne andrà. Sermin si lamenta con Beice, che le suggerisce di parlare con Unkar ora che è tranquilla dopo la fine dell'inimicizia con Fekeli. Sermin commenta che alla prima occasione litigheranno di nuovo. Nacie, la moglie di Atip, vede Sermin e Beice parlare e salutarsi come amiche intime. È sorpresa perché Beice le aveva detto tatt'altra cosa. Sospetta che stiano tramando qualcosa e decide di avvertire Unkar. È il giorno del fidanzamento di Gulten e Unkar informa Sanye che la cerimonia si svolgerà nella villa perché considera Gulten come una figlia. Sanye la ringrazia e Unkar le dice che è lei a doverla ringraziare perché, nonostante sia una giovane sposa, si è presa cura di Gulten senza lamentarsi e con gentilezza le ha evitato di sentirsi un'orfana. La chiama figlia. Mentre Gulten è con Fadik, Abdi informa che il fidanzamento si svolgerà nella villa. Inoltre, Abdi si propone come fidanzato di Fadik, ma lei non è interessata e non lo vuole, nonostante desideri sposarsi e formare una famiglia. Alla villa arrivano i pacchi che Demir ha ordinato dalla Germania e Unkar li fa portare nel suo ufficio. Poi si reca da Demir e lo sollecita a guardare il video che hanno ricevuto. Nel frattempo, Sermin arriva e Zuleya la fa entrare nella villa. Sermin racconta a Zuleya che l'inquilino della villa che Demir le ha regalato non paga l'affitto da tre mesi. Poi Inaci arriva e accusa Sermin di tramare contro di loro insieme a Beice. Scoppia una forte lite tra le tre donne. Nel frattempo, Demir ha avviato il nastro che mostra immagini allegre di Mujgan e Beice. Unkar commenta che il video è stato inviato da Mujgan e gli chiede di spegnerlo. Ma poi compaiono le immagini di Yilmaz e Zuleya insieme, con Yilmaz che accarezza il viso di Zuleya e si abbracciano. Il video si conclude con Mujgan che si rivolge a Demir, dicendogli che ora pensa che lei sia pazza, ma dopo aver visto il video cambierà idea. Demir e Unkar hanno visto le immagini di Yilmaz e Zuleya insieme. Unkar cerca di minimizzare ciò che hanno visto, suggerendo che si siano incontrati per parlare. Demir, però, preso dalla rabbia, impugna una pistola e Unkar cerca in vano di fermarlo. Demir corre nel salotto dove Zuleya è con sermine nacee e la prende per un braccio, trascinandola fuori di casa mentre Unkar cerca di proteggerla. Mujgan, nel frattempo, osserva la scena dal giardino, sconvolta. Demir spara dei colpi in aria per allontanare chi li segue e fa salire Zuleya sulla sua macchina. Mujgan ha assistito a tutta la scena e rientra sconvolta in casa. Sermin chiede spiegazioni a Unkar, ma lei se ne va in macchina. Rimasta sola, Sermin entra nello studio di Demir, dove il video sta ancora girando, e vede tutte le immagini di Zuleya e Yilmaz. Sanye si accorge della situazione e raggiunge Sermin nello studio di Demir. Sermin le dice che Demir li ucciderà. Sanye la caccia via e Sermin se ne va ridendo. Nel frattempo, Unkar si reca da Fecheli e gli racconta tutto, sotto gli occhi di Beice. Poi partono insieme nello stesso veicolo. Così si concludono le anticipazioni della puntata del sabato 27 maggio. Non dimenticate di lasciare un like, commentare e iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video pieni di curiosità e segreti esclusivi. Non dimenticate di lasciare un like, commentare e iscrivervi al canale